Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. Questo canale ha già omaggiato la memoria di Kurt Cobain a 30 anni dalla sua scomparsa. Lascio il link a fine di questo video e in descrizione al contenuto a cui mi riferisco. Ora che il mese delle celebrazioni è finito e la stampa nazionale ha fatto suonare qualcuna delle sue campane, provo a dare io un ultimo rintocco con questo Montage of Hack di cui bisogna necessariamente parlare se si vuole conoscere la vera figura di Kurt o, se già la si conoscesse, esplorarne le più intime sfaccettature. Lo dico subito così ci leviamo il pensiero. La questione non è semplice e a qualcuno potrebbe dare anche fastidio il fatto che si possa entrare così a fondo nel privato di qualcuno. Soprattutto se quel privato lo si va necessariamente a valutare col senno del poi. Io stesso ho deciso dopo settimane se proporre o meno questa video recensione per farsi diventare tutte le emozioni che questa visione mi aveva suscitato. Bisognava prima di tutto trovare un senso che andasse oltre il banale anniversario. La chiave di lettura l'ho trovata nel fatto che io stesso conoscevo poco la figura di Cobain. In quegli anni ero più vicino all'altra Seattle, quella dei Pergem e dei Soundgarden, che spero un giorno di potervi raccontare secondo la mia visione. Per quello c'è ancora molto da far sedimentare. Come dicevo però, conoscendolo o meno, mi sono trovato nella posizione privilegiata di chi è pronto ad esplorare ed approfondire, non essendo condizionato da giudizi o pregiudizi. Con questo punto di vista tutto personale, mi sento ora più a mio agio nel parlare di quest'opera. Se chi sta guardando questo video si trovasse nella stessa situazione in cui ero io, spero possa incuriosirsi ed avvicinarsi a quest'opera, accessibile agli abbonati ad Amazon Prime e disponibile in DVD e Blu-ray. Lo stesso potrà fare chi è stato più vicino a Cobain in quegli anni in cui altissima era l'attenzione mediatica sul personaggio. Se volete conoscere il vero O'Kart, non potete perdervi questo viaggio nella sua mente. Ma che cos'è questo Montage of Hack e che senso aveva vent'anni dalla morte del suo protagonista? No, 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 non è un errore se state pensando a questo. Ho detto venti e non trenta, perché il docufilm di Montage of Hack fu presentato nel 2015 all'edizione annuale del Sundance Film Festival per iniziativa della sempre prodiga HBO, la pay-tv americana sussidiaria della Warner Bros. Parliamo quindi di una produzione ad alto budget. Montage of Hack, già nel titolo distorce ad arte il comune senso di un'espressione colloquiale che dovrebbe essere Hack of a Montage, traducibile in italiano come Che diavolo di montaggio, nel senso di Che cavolo di montaggio. Questo Montage of Hack è il titolo che Cobain stesso assegnò ad uno dei suoi nastri privati che il musicista era solito registrare da solo in piena libertà, con libertà da intendersi nel doppio senso di creatività ma anche e soprattutto di intimità. Questo nastro è emerso da uno degli scatoloni presenti nel magazzino santuario in cui sono depositati tutti gli oggetti che furono di Cobain. Nessuno, prima del regista, se non la vedova Cartney Love, che ne è la proprietaria, aveva avuto accesso a questo materiale. La possibilità di farlo la concesse la stessa Love, come base per l'idea di questo documentario. Dopo i primi accordi con il regista e documentarista Brett Morgan, Cartney uscirà di scena. Vedrà il documentario solo a cose fatte. L'allontanamento non sarà voluto, ma sarà forzato dal risultato di una causa persa con l'appena ventenne figlia Francesco Bain, che ricoprirà qui il ruolo di coproduttrice esecutiva. Numero 58 dei 108 nastri recuperati, quello con il titolo di Montage of Hack era per il regista quello più rappresentativo del vero Cobain. Un misto di kitsch e divertissement insieme ad inquietudine e senso di smarrimento. Una finestra spalancata e finalmente accessibile sulla delicata psiche di Cart. Il resto dei nastri non rimarrà del tutto inedito. A pochi mesi dall'uscita del docufilm sarà pubblicata una sorta di best-of, per così dire, di questo particolarissimo materiale musicale e non. Secondo alcuni una macabra operazione commerciale, secondo altri un oggetto di culto non per tutti e per questo di per sé fondamentale. Ma nel magazzino Cobain non vi erano solo audiocassette, ma anche scritti, appunti, diari, quadri e soprattutto filmini in superotto del quotidiano familiare e della travagliata storia d'amore con Courtney. Dopo aver studiato a fondo e per anni, ben otto, tutto il materiale contenuto in quel magazzino, Brett Morgan, documentarista altrettanto eccentrico quanto geniale, sceglie per Cobain uno stile narrativo che lui stesso definirà sublime. Il risultato è un viaggio sulle montagne russe di una delle menti più complicate quanto fragili del rock di quegli anni, che mieterà anche altre giovani vittime. Lo stile sublime di Morgan si sostanzia in un viaggio nel quale lo spettatore non sa mai cosa possa capitargli tra una scena ed un'altra. Il parallelismo diretto, ricordato dallo stesso Morgan nell'intervista inclusa come inserto speciale del Blu-ray, è con il film The Wall dei Pink Floyd di Alan Parker. E come The Wall ecco comparire anche inserti animati, necessari per la fluidità della narrazione, principalmente opera dell'olandese Isko Altsing. Un viaggio così lungo quanto estremo, per Morgan doveva restare necessariamente il più intimo possibile, prima di essere presentato agli occhi del grande pubblico. Di nuovo l'aggettivo intimo, questa volta nell'ulteriore senso dei pochi che Morgan e Francis faranno partecipare attivamente al progetto. Oltre Kurt, sua sorella, i genitori, l'ex fidanzata e naturalmente Courtney. Degli ex Nirvana, solo Novoselic. Dave Grohl preferirà non intervenire. Tutti i protagonisti si sentiranno in debito verso Francis per cercare di restituirle il perché di un padre che non ha avuto la forza di lottare per crescerla. Spero ora sia più chiaro che Montage of Heck non è un documentario, ma un racconto che aspira a diventare un'opera d'arte. Con la sua granitica onestà, Kurt emerge davvero come una delle più importanti icone culturali di un difficile trentennio, ben distante però da quello frutto di proiezioni ed immaginazioni generate sul personaggio dai media del tempo. È vero, resta il limite della visione filtrata dalla sensibilità di Morgan e dai sentimenti di una figlia solo in fasce in quegli ultimi mesi di vita del padre. Ma a sé eliminiamo questo bias ed allineiamo bene le testine della nostra percezione, per restare in tema, Montage of Heck fa emergere la figura di un diverso, di uno spostato, segnato già nell'adolescenza. Un genio incompreso, messo da parte da tutti e da tutti rinnegato. Nonostante il precoce desiderio di autoinfliggersi una punizione per crimini non commessi, il messaggio finale di Montage of Heck è che Kurt trovò finalmente se stesso nella musica, ma per il solo fatto di essere riuscito finalmente in qualcosa. Riuscita e molto è sicuramente l'edizione in Blu-ray del docufilm dal packaging semplice, ma dalla qualità audio e video al top del formato. L'audio multicanale in DTS HD Master Audio restituisce tutta la potenza, ma anche la delicatezza e la stranezza della versione in lingua originale, sottotitolata in italiano. Ovviamente ci sono parte dei pezzi dei Nirvana, come commento sonoro, ma molto proviene dalla viva voce di Kurt o dalla rappresentazione animata di tutti i suoi scritti e disegni. Forse è il messaggio più forte e più incontrovertibile della mente di Kurt. In controvertibile sarà sicuramente il piccolo shock che vi procurerà la visione di questo film, soprattutto se vi ricordate Kurt così e lo vedrete anche così. Uno dei contrasti più forti è sicuramente il video originale di Smells Like Teen Spirit, accompagnato dalla riduzione per coro di voci bianche del brano, montata sul video originale. Una combinazione che ha del sinistro nella sua apparente innocenza con Cobain che sembra una bambola di pezza sul punto di essere fatta a pezzi. Ciao e grazie da Federico di Seconda Vita